La violenza non è dibattito quando uno sfascia una macchina in un paese civile, finisce in galera e poi ne riparliamo. Quindi per andare avanti e far battaglie sull'economia, sulle tasse, sull'immigrazione, sui campi rom, sull'Europa che verrà, io pretendo che lo si possa fare anche da leghista, anche da rappresentante del centrodestra, in serenità. O tutto il mondo politico condanna a qualsiasi tipo di violenza oppure non ci siamo e si apre un periodo buio.